Un ennesimo caso di mala giustizia, un ennesimo errore giudiziario che si è consumata questa volta a danno di due servitori dello Stato, l'ex dirigente della squadra mobile di Vibbo Maurizio Lento e il suo vice, l'ex dirigente Emanuele Rodonò. Questi due poliziotti circa 4 anni fa furono prelevati all'alba e tradotti in carcere. L'accusa concorso esterno in associazione, ma secondo l'accusa avrebbero omesso di condurre indagini contro la cosca Mancuso di Lippat. Nella serata del 27 febbraio, dopo una lunga istruttoria dibattimentale e dopo l'eclatanza dell'operazione nella quale furono arrestati, che si chiamava mafia e istituzione, con l'attenzione dei media nazionali e internazionali, dopo che a questi due funzionari, servitori dello Stato, è stata arrestata la carriera, distrutta la dignità, ferite le famiglie, fatto a pezzi l'onore, quello stesso Stato che compie questo macroscopico errore, stabilisce nella sentenza di primo grado che quello per cui erano accusati non corrisponde alla realtà giudiziaria, alla verità giudiziaria. Ecco, noi riproponiamo questo problema degli errori giudiziari che ormai sono diventati troppo numerosi, forse troppi, e uno Stato civile e democratico non se lo può permettere, uno Stato civile e democratico prima di arrestare un altro funzionario della polizia, ma prima di arrestare qualsiasi altro cittadino con un reato gravissimo e distruggere la vita, dovrebbe effettuare tutti i riscontri possibili ed immaginabili. E spesso noi osserviamo, non solo in questo caso, ma è generalizzata in tutto il Paese una giustizia molto più dinamica e scrupolosa nell'uso dei media, dell'informazione, nel lanciare l'eclatanza di alcune operazioni di polizia, piuttosto che essere attenti a riscontri, prove, documenti, prima di scrivere ed effettuare un provvedimento cautelare nei confronti dei cittadini per beni, dei confronti in questo caso di servitori dello Stato come un dirigente della mobile e un vice dirigente della mobile. Io auguro che a questi due servitori dello Stato, al Dottor Lento e al Dottor Rodonò, possano riprendere in mano le loro vite, sia quella privata che professionale. So bene che dopo vicende del genere quella vita è in qualche modo solcata, attraversata dal dolore, dal disagio, dall'offesa. Io auguro loro che possano riprendere tutto in mano e ritornare a condurre la loro normale vita quotidiana e professionale. E nello stesso tempo auguro a noi tutti e auspico che il prossimo Parlamento, piuttosto che soffiare sul fuoco dei populismi, dei giustizialismi, si metta seriamente, scrupolosamente, lontano dai riflettori a discutere. Una serie riforma della giustizia nella quale si introduca qualche forma di responsabilità civile per errori di questo genere. La responsabilità civile che conosciamo oggi oggettivamente è grottesca. C'è bisogno che la giustizia e l'esercizio della giurisdizione stia lontana dai riflettori, dai media. C'è bisogno che i giudici, i magistrati star televisivi rientrano nelle loro stanze e nell'ombra della cultura e del riscontro rigoroso del diritto. Se così non fosse, rischiamo un futuro con una deriva autoritaria, con il rischio sempre più grosso che le vite, o per errore o per scarsa professionalità, le vite di persone per bene, di funzionari dello Stato, possono essere distrutte da un momento lontano.